Benvenuti su ClaudioMasci.com Proseguiamo con lo sviluppo del nostro software in C-Sharp per la gestione delle strutture ricettive Con il precedente video abbiamo concluso la parte delle camere Poi magari a fine corso se c'è qualcosa da aggiungere, da andare a modificare e ritoccare la rivedremo Però per il momento diciamo che per gli obiettivi del corso possiamo considerare conclusa quella parte Avevo detto che saremmo passati alla parte delle prenotazioni Ma prima di farlo andiamo a gestire le impostazioni Perché ho pensato che potrebbe essere utile andare ad inserire alcune impostazioni da poi poter utilizzare nelle prenotazioni Infatti potremmo inserire ad esempio il costo delle tasse di soggiorno Dare la possibilità agli utenti di inserire dei costi extra Quindi ad esempio, non lo so, tipo per chi porta animali, per chi ha valigie, per chi ha più persone Non lo so, valigie vabbè magari no Però comunque se ci sono dei costi extra da inserire magari le inseriamo nelle impostazioni Per chi magari richiede qualcosa in più E quindi ogni struttura ricettiva può gestire i suoi extra direttamente dalle impostazioni Andiamo quindi a crearci il form delle impostazioni Creiamo come sempre una cartella all'interno del nostro progetto La chiamiamo impostazioni In realtà non è obbligatorio, possiamo anche non crearla Ma almeno in questo modo otteniamo il progetto più pulito E aggiungiamo un form all'interno di questa cartella In realtà come detto potremmo anche creare una cartella form e inserire tutti i form Però nel caso in cui volessimo aggiungere ad esempio ulteriori file solamente Per quanto riguarda le impostazioni In questo modo il progetto sarebbe più pulito Potremmo vedere, e intanto chiamiamo le impostazioni Potremmo vedere automaticamente a quale form sono collegati eventuali file Quindi nel nostro esempio abbiamo nella cartella camere Solo il form delle camere Ma avremmo potuto inserire dei file di classi Dei file extra E tenendoli all'interno della cartella camere Sarebbe stato sicuramente tutto più pulito E più immediato Quindi riuscire a capire immediatamente che quel file era collegato a quel form Andiamo quindi adesso a inserire degli elementi nel nostro form Come detto avremo una parte che ci andrà ad elencare tutti gli extra che il gestore vorrà inserire E una per quanto riguarda le tasse di soggiorno E per il momento direi che ci possiamo fermare qui con le impostazioni Comunque fatemi sapere nei commenti se c'è qualche impostazione che vi interessa aggiungere Allora io aggiungerei anche il nome della struttura Ma probabilmente non lo utilizzeremo mai Però comunque andiamola ad inserire Così diamo la possibilità comunque al gestore pure di andarsi a regolare Le informazioni sulla sua struttura Magari se volessimo in futuro aggiungere Non lo so la stampa con l'etichetta Magari con l'intestazione della struttura Sarà possibile farlo Per il momento comunque non credo che lo faremo Però inseriamo anche la possibilità di personalizzare il nome della struttura Quindi per il momento inseriamo subito due button Che ci serviranno per salvare e annullare le modifiche Poi aggiustiamo meglio graficamente le impostazioni Quindi per il momento ancora non ho chiaro quelle che saranno tutti i controlli da inserire Quindi magari ce la regoliamo meglio Andiamo ad inserire una label Che sarà quella ad esempio nome struttura La text box per inserire il nome della struttura Inseriamo anche In realtà facciamo un copia e incolla Della label e della text box E queste ci serviranno per Le tasse di soggiorno E poi andiamo ad inserire un blocco Che permetterà agli utenti di inserire i vari extra In teoria potremmo usare sempre una data grid view Ma voglio variare un po' Quindi vediamo anche qualche controllo diverso dalla solita data grid view Quindi potremmo usare o una list view o una tree view Usiamo una list view in questo caso Quindi inseriamo la list view Per il momento Come detto non stiamo tanto a preoccuparci dell'aspetto grafico Quindi inseriamo i controlli Poi una volta inseriti tutti i controlli Ci andiamo a migliorare l'aspetto Quindi per ora andiamo a vedere che cosa stiamo andando ad inserire Quindi abbiamo inserito la list view Andiamo a modificarla Quindi dalla visualizzazione Invece di icone grandi Impostiamo su dettagli In questo modo possiamo inserire le colonne E nelle colonne andiamo ad inserire direi tre colonne Quindi abbiamo la colonna con l'elemento La colonna col prezzo e una descrizione Quindi inseriamo subito le tre colonne Ritorniamo sulla prima In name possiamo inserire ad esempio col elemento E in text scriviamo elemento La colonna 2 la possiamo chiamare col prezzo E in text stessa cosa prezzo E la terza è col descrizione E in text mettiamo descrizione Non mi ricordo se abbiamo già usato la list view da qualche parte Nei corsi precedenti Forse no Non me lo ricordo Va bene comunque andiamo avanti E possiamo regolarci intanto anche le colonne Con la larghezza Diciamo che per il momento le impostiamo Elemento 150 Forse anche 200 Sì Prezzo può andare bene 60 In realtà potrebbe andare anche meno Ma lasciamo 60 E descrizione Impostiamola A 200 Magari senza la U Ok Forse anche 300 No Sono andato un po' troppo oltre 250 Ok Ah perché avevo fermato qui Pensavo che invece Il blocco arrivasse fino alla fine Ok Diciamo che Possiamo intanto Adattare La list view Perfetto quindi abbiamo i tre blocchi con gli elementi Inserirei quindi anche una label Intanto abbassiamo un po' la list view Copia e incolla Inseriamo qui la label E poi inserirei tre button Qui Che ci permettono di aggiungere Modificare E rimuovere gli elementi Nella nostra list view Quindi facciamo Copia e incolla Del button Lo mettiamo qui Copia e incolla Poi ovviamente andiamo a personalizzare Tutto Magari ci mettiamo invece di una scritta Mettiamo un più Una matita E un Per cancellare ci possiamo mettere un blocco Qualcosa Uno stop Poi vediamo La x ad esempio Oppure per rimuovere gli elementi Adesso andiamo a inserire Al posto delle label Quindi di label 1 Label 2 I testi Quindi label 1 diventerà Nome Struttura E facciamo la stessa cosa anche in label LBL Nome Struttura Label 2 sarà Tasse di soggiorno Quindi LBL Tasse di soggiorno Per quanto riguarda Le tasse di soggiorno E il nome della struttura Non le inseriremo nel database Ma le inseriremo nelle proprietà del software Quindi tasse di soggiorno Ovviamente chi vuole può anche crearsi una tabella extra Per le impostazioni e andarla a salvare lì Però credo che non sia necessario Cioè sono impostazioni davvero Sono poche informazioni Occupano poco spazio E quindi si possono tranquillamente inserire nelle impostazioni del programma E questa la chiamiamo label extra E andiamo a scrivere anche qui Extra O magari costi extra Così magari per i gestori è più intuitivo capire che cosa va inserito qui I button Per il momento assegniamogli solamente il name Quindi senza cambiare il testo Quindi btn Aggiungi extra btn modifica extra E btn Elimina extra btn Modifica extra E btn Elimina extra Gli ultimi due ovviamente saranno btn salva impostazioni E come text mettiamo salva E btn annulla impostazioni E come text Annulla Andiamo quindi adesso a inserirci le due impostazioni Intanto nome struttura magari Può essere anche un po' più lungo Graficamente al momento è inguardabile però Magari ce lo rivediamo meglio dopo Quindi come detto non è importante Andiamo con il tasto destro sul nostro progetto Proprietà Siamo già su impostazioni Quindi andiamo a inserire Ovviamente non cancelliamo la stringa del database Perché è fondamentale Andiamo ad inserire nome struttura E tasse di soggiorno Allora tasse di soggiorno volendo possiamo impostarlo già su decimale Impostato su 0 per il momento va bene Quindi nome struttura possiamo lasciarlo vuoto E tasse di soggiorno lasciamo su 0 Possiamo impostare su applicazione O su utente In realtà Impostiamo tutto su applicazione Così abbiamo tutto all'interno dello stesso file Quindi non ci viene generato un ulteriore file Per quanto riguarda anche strutture e tasse di soggiorno Sarà tutto insieme al database delle camere Andiamo ora a crearci la tabella Anche per le impostazioni con i costi extra In realtà non so perché all'inizio ho creato il database chiamandolo camere Perché comunque sarà il database dell'intero software Quindi ci andranno le impostazioni Ci andranno le prenotazioni Probabilmente all'inizio volevo creare più database Non lo so Comunque ovviamente utilizzeremo un unico database Non andremo a creare un file per ognuno Quindi ci spostiamo su esplora server Andiamo su connessione dati Ovviamente ci assicuriamo che il database sia quello utilizzato Quindi quello del nostro programma Lo possiamo controllare con il tasto destro Mostra dati tabella Fantastico Non ci sono dati tabella Andiamo a vedere per quale motivo Quale database mi sta caricando E infatti sta caricando quello sbagliato Perfetto Ho collegato il database corretto Non mi ricordo se l'avevo cambiato nell'ultimo Comunque assicuratevi che sia collegato al database della cartella debug O comunque della cartella release Quella con cui state lavorando Altrimenti perdete tutti i record inseriti Quindi ho verificato che sia il database corretto Andiamo su tabelle E andiamo ad aggiungere una nuova tabella La tabella la chiamiamo TBL Extra E andiamo ad inserire come colonne Colonne id va bene La possiamo lasciare Quindi facciamo generare un id diverso per ogni record Andiamo ad inserire elemento Mi sembra che fosse Elemento prezzo e descrizione Ok Quindi andiamo ad inserire elemento Come tipo di dati Possiamo utilizzare Nvarchar Vediamo Va bene Va bene anche Varchar Mettiamo ovviamente invece di 50 Possiamo impostarlo a 200 No 2000 No 200 anche perché non credo che servano testi troppo lunghi Consenti valori null Lo disattiviamo perché comunque è fondamentale che sia inserito il nome dell'elemento Prezzo Decimale Ricordiamoci di cambiare 18,0 in 18,2 E descrizione Anche qui Caratteri vari Descrizione Possiamo anche in questo caso direi 200 potrebbe bastare Magari inseriamo 500 Gli diamo un po' più di spazio per descrivere l'elemento Clicchiamo su aggiorna In realtà ho lasciato valore null Per il prezzo Annulliamo E togliamo il null Per il prezzo In realtà non è fondamentale Perché tanto Questa verifica la faremo nel software Quindi non faremo passare comunque Dati se non sono presenti Elemento e prezzo Però comunque inseriamola Ok stiamo preparando lo script Quindi dopo aver inserito le informazioni clicchiamo su aggiorna database Verrà eseguito l'aggiornamento Potrebbe richiedere un po' di tempo Vediamo In realtà Aggiornamento completato Aggiorniamo la tabella La cartella con le tabelle E vediamo che ora abbiamo sia table camera che table extra Per il momento comunque chiudiamo il database E ritorniamo al form delle impostazioni Poi ritorneremo in seguito sul database Ho caricato le tre immagini da usare nei button per gli extra Li troverete sul mio sito web Quindi se state guardando il video da youtube In descrizione troverete il link ad articolo E lì ci sarà il file zip con le tre immagini Comunque le ho scaricate da iconfinder.com Se volete potete andarle a cercare lì Potete usarne anche altre Io ne ho scaricate tre E le ho riadattate A una risoluzione di 26x26 E le ho inserite nel file res Che avevamo creato all'inizio Con le icone per il form iniziale Quindi come avevamo detto a inizio progetto Andiamo a inserire tutte le risorse Tutte le immagini nel file res Quindi si occuperà questo file Di gestire tutto l'aspetto grafico Quindi tutti i contenuti grafici multimediali Del nostro progetto Ritornando quindi al form Andiamo adesso a far caricare le icone All'apertura del form Quindi associeremo a button 1 A button aggiungi extra l'icona con il più A la modifica quella con la matita E alla terza quella per rimuovere Intanto andiamo a riadattare i button Perché come detto le icone sono 26x26 Quindi andiamo a modificare size In questo caso era 48x23 E modifichiamo in 26x26 Poi magari le andiamo ad aggiustare dopo Ma intanto impostiamoli tutti su 26x26 E andiamo quindi adesso a caricare le icone Al caricamento del form Nel form 1 avevamo creato un metodo esterno Quindi non nell'OAD Per caricare le icone In questo caso lo inseriamo direttamente nell'OAD Quindi abbiamo btn Aggiungi extra punto Possiamo metterla come background image Andiamo a vedere intanto come l'avevamo messa nel form 1 Così manteniamo lo stesso stile Quindi se era come background image o come image No l'avevamo messa semplicemente come image Quindi facciamo la stessa cosa Quindi impostiamo anche in questo caso Ritorniamo su impostazioni Quindi btn aggiungi extra punto image Uguale res punto properties punto resources punto aggiungi Stessa cosa per gli altri Btn modifica punto Perché mi ho messo enable Punto image uguale res Properties resource punto modifica E stessa cosa per l'ultimo Quindi btn elimina punto image Uguale res punto properties punto resources punto Cos'è? Elimina L'ho chiamata rimuovi Non so perché vabbè Rimuovi Adesso abbiamo caricato le immagini Ma dobbiamo rimuovere il testo Perché c'è al momento il testo Anche se in realtà Possiamo andare a modificare Text image relation In realtà questo poi lo modifichiamo dopo Comunque andiamo a rimuovere il testo Da tutti i tasti Non lo rimuoviamo dal campo text Perché almeno così abbiamo un riferimento Quindi lo lasciamo visibile Ma lo leviamo poi dal codice Quindi btn aggiungi Lo mi da più suggerimento No va bene Aggiungi extra punto text Semplicemente impostiamo un testo vuoto Button modifica extra punto text Uguale anche qui un testo vuoto Button elimina extra punto text E anche qui impostiamo un testo vuoto Nel form 1 non l'avevamo fatto Perché abbiamo sia le icone Che il testo Abbiamo anche l'image align Quindi allineiamo L'immagine al centro In questo caso andiamo a vedere Come sono allineate Middle center è perfetto Tanto abbiamo solamente l'immagine Quindi per il momento non facciamo nient'altro Intanto quindi facciamo caricare il form Quando facciamo clic su impostazioni Quindi anche in questo caso molto semplice Impostazioni punto impostazioni E lo chiamiamo form impostazioni Uguale new impostazioni impostazioni Form impostazioni punto show Quindi andiamo a far caricare il nostro form Avviamo Vediamo intanto come sono impostate le icone Diciamo che possono andare bene così Non modifichiamo nient'altro Vanno benissimo così le icone Per il momento dal form 1 Non abbiamo nient'altro da modificare Quindi possiamo chiudere form 1 E ritornare su impostazioni Andiamo adesso a salvare le impostazioni Del nome della struttura E delle tasse di soggiorno Quindi facciamo doppio clic su salva Ovviamente poi dovremo inserirle anche nel load Quindi dovremo farle sia salvare che caricare Per il momento inseriamole nel salva Quindi properties punto settings punto default punto nome struttura Uguale Non mi ricordo se ho dato il nome alla textbox Ma credo di no perché non ricordo proprio di averla rinominata Quindi commentiamo per evitare errori E infatti si chiama textbox 1 E la chiamiamo txt nome struttura E facciamo la stessa cosa con txt tasse soggiorno In realtà poi questo magari lo vediamo meglio Però potremo inserire nelle impostazioni anche gli sconti Quindi magari diamo la possibilità poi ai gestori Di crearsi degli sconti oltre ai costi extra Anche degli sconti tipo offerta 20% Offerta meno 10€ Che poi verranno applicati in fase di prenotazione Quindi per il momento lasciamo questo Magari nel prossimo video aggiungiamo anche gli sconti Tanto comunque non riusciremo a vedere gli extra qui Quindi ci occupiamo per il momento del salvataggio Dei strutture e tasse di soggiorno E poi vedremo tutto nel prossimo video Ok quindi abbiamo inserito Abbiamo rinominato le due textbox Possiamo ritornare qui Quindi nome struttura text Nome struttura punto text E stessa cosa intanto ci dà errore Non è possibile assegnare un valore proprietà all'indicizzazione Perché è di sola lettura Ovviamente va bene Torniamo su Ce l'ho ancora aperto Ovviamente impostandolo su ambito applicazione È in sola lettura Quindi si deve impostare su ambito utente E si risolve il problema Quindi properties Punto settings Punto default Punto tasse di soggiorno Uguale In questo caso però dovremo convertire la stringa in decimale Perché ovviamente questa variabile è un decimale E la textbox invece salva come stringa Quindi convert Punto to Decimal E gli passiamo la stringa Quindi txt Tazse di soggiorno punto text Ritornando Intanto salvo Ritornando alle impostazioni Ovviamente In questo caso possiamo Scegliere Dove salvarla In base Alla necessità di modificarla o meno Quindi Nel primo caso ovviamente La La stringa Di connessione al database Rimane la stessa Quindi non c'è bisogno di andarla a modificare Nel secondo caso Non ce l'avevo pensato Ma comunque ovviamente L'utente dovrà modificarla Quindi non può essere gestita dall'applicazione Ma deve essere gestita dall'utente Quindi Se Non c'è necessità che L'utente la modifichi Quindi può essere in sola lettura Si può lasciare in applicazione Altrimenti se deve essere Anche scrivibile dall'utente Va necessariamente Necessariamente messa Nell'ambito utente Quindi ritorniamo al codice Abbiamo intanto Salvato Nel caso in cui l'utente Clicchi su BTN salva Ma adesso andiamo a farle caricare Quindi facciamo Praticamente la Procedura opposta Quindi text Nome struttura Punto Text Uguale Facciamo proprio copia e incolla Stessa cosa Stessa cosa ovviamente per Text Tasse Soggiorno Punto text Uguale Anche in questo caso Andiamo A copiare Ovviamente Vale lo stesso discorso Fatto qui Quindi è un decimale Non può essere una stringa Quindi dobbiamo semplicemente Convertire in stringa Aggiungiamo quindi ora Il salvataggio delle impostazioni Quindi Properties Punto Settings Punto Default Punto Save E aggiungiamo anche una message box Giusto per il momento Per avvisarci che le impostazioni Sono state salvate Poi magari Vediamo se Migliorarla Se lasciarla Impostazioni Salvate Correttamente Avevo pensato anche di Far chiudere le impostazioni Dopo il salvataggio Ma in realtà Meglio di no Ah ovviamente Punto virgola Meglio di no Perché magari l'utente Potrebbe voler rimanere Anche Sulla schermata delle impostazioni Anche dopo aver salvato Quindi Non facciamo salvare le impostazioni Intanto Avviamo il programma Sbagliato ovviamente Impostazioni non info Ok Alla prima apertura Ovviamente è tutto vuoto Andiamo a scrivere La mia Struttura Tasse di soggiorno Impostiamo Al momento 3.50 In questo caso Non abbiamo ancora Inserito le regole Che avevamo Inserito Nelle camere Quindi La gestione dei decimali Il blocco Di caratteri Non Non adatti Per il momento Non le inseriamo Se volete Potete copiare Le funzioni Dall'altra pagina Intanto inserirle Quindi non ci perdiamo Magari troppo tempo Visto che Praticamente Sono gli stessi Controlli Che abbiamo fatto lì Che dovranno essere fatti Anche qui Quindi magari Prima del video Della prossima settimana Come esercitazione Provate a fare Le stesse cose Quindi fate in modo Che le tasse di soggiorno Non possano contenere Carattere extra Che nel caso in cui Ci sia la virgola Venga sostituita col punto Quindi cerchiamo Di avere Lo stesso Tipo Di Di dato Sia qui Che nell'altra Schermata Quindi intanto Salviamo Impostazioni Salvate correttamente Ok Chiudiamo E riapriamo Per vedere se Ora le impostazioni Sono già presenti Sono già presenti Ma non c'è la virgola Questo perché In questo caso La La numerazione viene gestita In modo diverso Rispetto al database Quindi Va inserita la virgola Invece del punto Quindi Risalviamo Chiudiamo E avviamo Nuovamente E in questo caso Abbiamo La Numerazione corretta Non è un problema Volendo Possiamo anche Lasciare così In teoria Potremmo cambiare Le impostazioni In modo da avere Il punto Non Non è fondamentale Diciamo Non perdiamoci Troppo tempo Quindi lasciamo La virgola Tanto poi In fase di Somma Di Di Calcoli E' uguale Quindi riusciamo ad adattarlo Quindi va benissimo Lasciarlo anche così L'importante è che non ci siano Caratteri extra Quindi Se l'utente dovesse inserire Il simbolo dell'euro Se dovesse inserire Delle lettere Quelli vanno Eliminati tutti L'importante è che ci siano Solo dei numeri Per questo video Ci fermiamo qui Quindi nel prossimo Andremo a vedere Come aggiungere i costi extra Faremo anche in modo Da aggiungere Gli sconti Quindi le offerte Magari Rimpiccioliamo un po' Costi extra Oppure lo inseriamo di fianco Quindi Vediamo un po' Come adattare la schermata Perché vorrei tenere Comunque i form Abbastanza piccoli Non voglio avere form Da 1000x1200 Cioè cerchiamo di Tenere spazi Ristretti Anche se effettivamente Diciamo che PC con Monitor vecchi Quindi con Risoluzioni basse Ce ne sono Sempre meno in giro Quindi anche Con versioni vecchie Di Windows Quindi potremmo In teoria Anche avere Risoluzioni un po' Più alte Però Non è detto Che tutti I Gestori di strutture Ricettive Abbiano comunque Dei pc moderni Magari hanno un pc Un po' più datato Con Una risoluzione Dello schermo Non altissima Quindi avere Un software Con Una finestra enorme Significherebbe Che per quella Persona Sarebbe impossibile Utilizzarlo Quindi Cerchiamo di Utilizzare Dimensioni Che Possano Essere un po' Adatte a tutte Sicuramente Credo che ormai 800x600 Sia Improvabile Sia davvero Rarissimo Però potrebbero Eserci ancora Schermi a 1024x768 Quindi Cercare almeno Di stare sotto I 1024x768 Quindi per questo video Chiudiamo qui Nel prossimo Come detto Andremo a Migliorare le funzionalità Della pagina Impostazioni Come sempre Scrivetemi nei commenti Eventuali suggerimenti Quindi se c'è qualcosa In particolare Che pensate Possa essere utile Nella schermata Impostazioni Ditemelo Così magari La aggiungiamo Nel prossimo video Ho deciso anche Di non fare troppo Qui proprio Per lasciare Un po' più spazio Ai vostri consigli Quindi se c'è Qualcosa in particolare Che pensate Possa Essere utile E anzi Che debba esserci Fatemelo sapere Così L'andremo ad inserire Quindi Per ora è tutto Vi ringrazio Per aver seguito Questo video E ci vediamo Al prossimo Sì